Altri decreti ingiuntivi per il Comune di Scalea. Gli atti emessi il 13 marzo scorso dalla sezione lavoro del Tribunale di Paola, questa volta riguardano le spettanze arretrate dovute agli operatori del settore rifiuti per il lavoro prestato con l'avvenire SRL. I documenti sono stati notificati al Sindaco di Scalea Pasquale Basile il 28 marzo, con l'obbligo di adempiere alla diffida entro 15 giorni dal ricevimento degli atti. La questione purtroppo è sempre la stessa. Il Comune non ha soldi, è un passo dal distesso finanziario e non può pagare quanto dovuto agli operatori ecologici. Dal canto loro, gli operai di Scalea sperano di ottenere in questo modo il giusto compenso per l'attività svolta alle dipendenze della ditta avvenire SRL fino al 30 giugno dello scorso anno. Gli addetti alla raccolta dei rifiuti accreditano le somme corrispondenti alla mensilità di giugno 2012, 13esima e 14esima e il TFR maturato. Il debito con gli operai non è più della ditta ma del Comune. L'avvenire SRL infatti aveva autorizzato l'intervento sostitutivo dell'ente per il pagamento delle spettanze arretrate in favore dei lavoratori. La Giunta Basile, con delibera numero 124 del 25 settembre 2012, si assumeva l'obbligo di provvedere direttamente alla retribuzione, ma ad oggi gli operai non hanno ancora ricevuto i soldi. Lo stesso accade per le spettanze della TCSPA, che ha gestito per anni, ancora prima dell'avvenire, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ma il sindaco di Scalea era stato chiaro fin da subito. In questo modo non otterranno niente, aveva detto Basile, se il Comune va in dissesso rimarranno senza soldi. Intanto anche la Falzarano, ditta che attualmente si occupa del servizio cittadino, deve ai lavoratori di Scalea le mensilità di febbraio e marzo 2013 e la tredicesima già maturata.